La mamma era brava a fare da mangiare e allora portavo un vecino del blog di servagina, del caravaggio, avurpe, studiare... Ha mangiato un avurpe? Eh, è ben cucinaia e non ti trinito in cui non mi hava. Allora, che viaggio? Ha portato due o tre, perché i gatti, prima che ti fai tanti chilò, era una bella vita, aveva una vita anche per lui, a perpetua, era una ramaglia di gioventù, che caccia che mamma era giù, dunque non erano. E gli ha detto, ti raccomandi, non lasciate tracce, una ciauche, una testa, perché non si scorda, e ho tagliato tutti bene la carne. Porto questa carne, mamma, per carità, la cucina, un nodo, un nodo, insomma, era buonissimo. La cucina e il ribo che fanno, a jahanà, e preda, perfetta, tutti i carni, tutti i carni. E ho tutta Marcella di Carabino e la gara. E ho capito, e che metto jahanà, mangio, guarda come è buono. Ma cos'è una bella? Allora proprio faccio bene. E mangio tutti i gatti. Poi a un certo punto c'è qualcuno. Gli ha raccomandato che non parlasse, come diceva il re, ma io che ne resisto. Sì. E qualcuno metto a fare amore dei gatti. Miau. Madonna, ti ho capito. Allora, cartone, stai giusto che, ma dove? Ma, non c'era pa' dei gatti. Che, perché fai di stuver? Oh, ti ti capi che di eddi, 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 l'unca steggi di. Eddi, basta che scherzo. Per carità di, per carità, no, no. E va avanti finiscio tutti i pranzi. Giuta, avevo anche dei gatti e tutto che, perché non so come finiva, eh. Niente, e... Ho finito tutto il pranzo. L'ultimo, ho preparato, ho preparato il petto, e diceva, era buono? Era buono? Era buono. Oh, mamma mia, non c'è buono. Ebbene, ora vi dico, di tanta digestione, la faccia, e finì, era il gatto, il gatto, il gatto. Era il gatto, il gatto. Mamma e la purenta la fai in tutte le maniere. La fai a buia, la fai a friggia, la fai a friggia. Basta. Dove non ti trovavi, perché stessi addirittura. Un poche di dati. E allora pasturava quella fulenta. Ma erano già i dati, ma erano già i dati. Eh, i dati cadravi, che maneggiavo, Ferro. E li mangi? Eh, i mangi, Ferro, ti maneggi bene. Maneggiavo? A friggia, a friggia un gesto, e poi li mettiamo dritto. E un dia, perché avevamo il forno. Avevamo il panate, avevamo questo gesto. E allora, questo panate, gli fai, oh, ma da me, ma fa anche la torta d'ursa qui là. E allora, gli fai, oh, la torta d'ursa. Allora, è di pulenta. Vai, pasti sempre di pulenta. E allora, andavamo avanti, arrivavamo qua. E un tocchetto per due. non ti condividi niente. Non ti potevamo succo, perché non ti avevamo niente. Due ore non era. Noi eravamo a tenda, fino a morire da tre ore, fa cattare un po' di ore. E un po' di sapore. E un po' di sapore. E un po' di sapore. Pagli ore, che la sera avevamo una festa. Sì. E beh, mi pare, guardate come la, una damigiana d'orio, come la caravaglia. Allora, eravamo andando nelle cintaglie, ma stai, beh, quando arrivavamo, devi essere in contatto. E la ducati a morire. E poi la faccio. E la faccio posto bene da damigiana, a cena d'orio, bene, 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 bene. E poi la rimonta a morire normale. Quando arrivavamo, questa damigiana d'orio, era ora. Era ora. Era ora. Era una barra d'ora. perché non avevamo niente. Allora, quando arrivavamo, prendi madgura, è già capitato, madgura, non ti puoi mancare. Allora, ti prendi un pochino, il pollice, faccio l'olio, e ti freddici, i bracci, gli hanno come una ghiandola, è come una ghiandola, e corrisponde ai latti d'ora. Alle tonsilli. Diciamo le tonsilli, ecco. Allora, ebrah sinistra, cin, ebrah cin, e corrisponde alla parte destra, la parte destra, la parte destra, la parte destra, corrisponde alla cina. con la cina, anche per cui con i uomini le fanno qui, ebrah, ma hai capito ebrah, devi agire in qui, e te dai 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 dai, e non ti puoi mancare, ho i dei. Allora, quando viaggia non mi fai mai, ma provo anche, provo anche, hai preso alla naroccia, e mi faccio tre giro, perché non ti devi farlo bastare, tre giro, e ben caramera, in domani vogliamo vedere un po' di idee e io l'ho chiamato un po' di due e mi dice che c'è un ruino e tu, quando ti prendi il corpo d'aria una spalla, una gamba, un posto ti prendi il tuo corpo, ti prendi un un brigaione di couture e poi ti prendi il foglio un po' d'alcol, però credi no? ma non, l'alcol non mi ha visto perché l'alcol è bruciato e ti fa fastidio la pelle non credi, non c'è nessuno ti prendi il brigaione di couture tu prendi la qualumetta tu metti una gota e non ti prendi la pelle tu prendi la pelle che merce è couture perché la realtà stessa è che merce tu vedi che la carne che tira la tira la tira la tira la tira la tira la tira l'umidità l'umidità che viene la pelle e la tira tutta dopo che le conde tu vedi perché poi è cara e ti fa leva conde e ti la vedi e che prendi la pelle e che prendi la pelle e ti prendi la pelle che prendi la pelle che prendi la pelle perché fa una trappa lunga e che prendi la pelle e poi ti metti un fuso e poi ti metti un fuso e poi ti pari questo bucale che era chavitale e tempo, qui è blondo ma non era a tenere e poi un po' di pelle un po' di coutume perché aveva mal e ti friccionava con il calore e faceva tanto bene infatti dicea Rolando che aveva mangiato e diceva e aveva mangiato e aveva un braccio e aveva un braccio e non aveva mangiato poi aveva un braccio e aveva una Peyana e quindi lei fille e diceva e allora era sempre tardi e via da buona ma la pillola aveva un'oretta che era che aveva unВibita ma le vede quel brano che ti faccio boire restava bella tucca e tu bovii e fai tanto bene per la tucca ma come faria? credi che quella chanta che fai che la spiga caduno ai canarii? sì 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 e poi quella che fai nel castaniero che ha tutto il taglio e facciamo quella di catar quella buona erba e stacca più ecco ma fai mai urà ma farina di ligno ti ti fanno un parpe allora che li hai un parpe? di polenta per la cauta, di brenne e di farina di ligno ci vuole e di farina di ligno è unica perché a carù ha dura di ciù con farina di ligno ha carù ha dura di ciù e invece la polenta ha già un po' che è giù e allora ti metti un dopo l'auto che non sono ancora un po' che è giù e ti ti metti un palco poi ti metti un palco poi ti metti un palco e poi ti metti un palco e poi ti metti un palco e poi ti metti un palco un dopo l'auto leva un, metti l'auto E a coi i anti-biotici domriamcikai?